Ciao a tutti, negli ultimi giorni ho letto del mancato accordo tra Meta e Siae per la distribuzione dei brand del repertorio Siae sulle piattaforme di Facebook e di Instagram e che quindi a fronte di questo tali brani del repertorio erano rimossi da queste piattaforme. Ovviamente io mi sto facendo una mia opinione ma aspetto i vostri commenti qui sotto. Da un lato penso che la tutela dei diritti sia fondamentale e quindi credo che la Siae si stia muovendo in questa direzione. Però mi sorge spontanea una riflessione, cioè che la maggior parte o molti diciamo autori che utilizzano i propri brani su queste piattaforme lo facciano più che altro per promuoversi e non a scopo economico. Quindi da un lato abbiamo i diritti, dall'altro la possibilità di poter utilizzare le proprie opere per scopo promozionale. Quindi vi chiedo un po' una vostra opinione e appunto cosa ne pensate. Un altro punto su cui stavo riflettendo è che credo che l'Italia sia l'unico paese a non aver raggiunto tale accordo. Quindi mi chiedo come mai, perché? Ecco, voglio parlarne insieme a voi e commentare insieme a voi questa cosa nei commenti. Quindi vi aspetto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima. Ciao!